Gianni! Gianni! Scusa, ora c'è un po' tua dita, non ti avevo sentito. Vabbè, non fa niente. Dimmi. Barbagianni. Cosa? Barbagianni. Cosa? Barbagianni. Aspetta. Te, un Barbagianni sta qua. Se vuoi capire la mia mazzolina. Barbagianni, Barbagianni, Barbagianni. Ma che c'è la vostra cosa? Ah, non serve. Io intendevo dire, fammi un po' la Barbagianni e aggiustami le basette. Non si dico bene, due basette o di la lente. No vabbè ah, io ve ne vado. Senti Gianni, è meglio che vi lasciamo stare, ma che la Barbagianni la faccio da solo a casa. Che poi tengo pure la macchina in seconda fine. Ah, lo devi fare che ce l'abbiamo qua fuori la macchina. E' come una pattigiana. A pettina. Matt Moari. Comeоды, pic. Appendate. 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 Assisi. 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 Assisi.